Eccoci e bentornati sul mio canale, nuova serie in arrivo, parliamo di Tomb Raider, gioco che è uscito nel marzo del 2013, era un titolo che volevo recuperare o meglio ho recuperato e volevo assolutamente giocare, a qualcuno di voi che me l'aveva chiesto nei commenti avevo risposto che avrei iniziato questa serie ovviamente su Tomb Raider perché sapete quanto io apprezzi oltre all'isparatutto e ai giochi di corse, gli action adventure game, quindi ci potremo buttare subito su questo video. Questo bellissimo gioco e con la bellissima Lara, ma senza dilungarci troppo, buttiamoci nell'azione e andiamo a fare nuova partita, selezionano slot di salvataggio, andiamo sul primo, difficoltà io andrei su facile perché almeno ragazzi ce la giochiamo veramente tranquilli e andiamo. Finalmente potevo lasciare il segno, partire ad avventura, ma fu l'avventura a trovare me. Nei momenti più cubi... Aiuto! Quando la vita ci scorre davanti agli alti... Troviamo qualcosa che ci spinge. Uno stimolo a proseguire. Oh! Mamma mia! Porco cani, iniziamo alla grande proprio! Oh! E si bagnò! Già casino vero ragazzi, già casino! Su Lara, su! Torna a galla amica cara, su! Ok! Mi sta vibrando il joystick, da paura! Ok! Ok! Tieni premuto! Tieni premuto! Qui ci sono dei figli giossi! Lo sappiamo, se c'è ne è successo qualcosa del genere! Forza del gioco! Qualcuno ci aiuti! Gianna! Sono qui! No! Ti pareva... Square Enix! Presenta! Che cacchio è l'appeso? Ti pareva subito iniziamo con gli scheletri? Dove siamo andati a finire qua? Mamma mia! Una produzione di... Chissà che cosa dovremmo andare a cercare qualche mistero... Crystal Dynamics! Oh! Mamma mia! Irriconoscibile Lara! Tiè, guarda come stiamo messi... Appesi come in salame! Mamma mia! Sembra un bacco da seta! Tieni premuto L a sinistra e a destra a tempo... Con le oscillazioni per darti le spinte! Mamma mia! Ma questo è a destra nostra che so? Cadaveri! Vai! Vai! Ok! Dici? Forza! Uscilla, amica cara! Vai! Questa capoccetta! Sarà molto male! Lo so! Dobbiamo un attimo incendiare! Forza! Forza! Ok! A posto! Oh! Oh! Mamma mia! Oh! L'ha presa! La trafitta! Mamma mia! Ma che è questo inizio? Devastante! Ecco, ci vediamo poco e niente... Che poi, nonostante le condizioni climatiche, atmosferiche... Ma che cacchio è? Ma dove stiamo? Sta sempre con questa bellissima canottierina? Non lo so, la cosa è alquanto inquietante... Ma nel senso, ho scelto Tomb Raider? Aspetta! Una fiaccola! Nuova attrezzatura! Non devo fare rumori! Vai! Piano! Mamma mia, che in condizioni sta la nostra Lara! Andiamo! Comunque, l'inizio promette molto... Ah, si è spenta la fiaccola! Premi L2 per esaminare l'ambiente... Premi L2 per saltare e aggrapparti alle sporgenze... Procurati del fuoco per dare... Arriviamo a questo gioco... Ok... Vai! Perfetto! Andiamo sopra! Voilà! A posto! Adesso... Botta assurda del barile... Attenzione! Vai! Eccolo! Mi pareva strano... Che dico? Non fa il botto, il barile... Ok... Andiamo! Oh, cacchio! Qua crolla tutto! Ma a capire... Oh! Cacchio! 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 Lasciame il piede! E battenete sotto! Oh! No, no! Non ci aiutavi te! Ma... Levate! Levate! Non torno da nessuna parte! Te li dite a levare! Vattene! Non fa spegnere la fiaccola! Che ci serve! Guarda qua! Ma che è? Ma guarda dove cacchio! Siamo andati a sbattere la testa! O meglio, c'è rimasta solo la testa qua! Andiamo! Eccoci! Siamo arrivati! Il gatto siamo usciti da là sotto! Mi stava a mancar fiato! Con tutto che... Forza di volontà! Trova una via di uscita! Cacchio! Questa cavolo di fiaccola ce la fanno spegnere in continuazione! Premi L2 per visualizzare... Ok, questo dovrebbe esplodere! Però... Di fuoco qua possiamo andare! Andiamo! Dai, Lara! Sali qua! Chi non ci fa salire qui sopra? Andiamo di qua! Aria attuale! Antro degli sciacalli! Ok! Però qua c'è sta l'acqua! Quindi qua ci si spegne di nuovo! Quindi conviene andare di qua! No! Attenta! Questi forse se passano... Andiamo un po' Proviamo un po' A incendiarli tutti quanti! Vediamo! Vediamo se si spengono! Fatemi vedere! Fatemi vedere! Sì! Devo fare... Una cosa... Oh! 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 Levatevi un po'! Levatevi un po'! Perché vi posso dare fuoco a qualsiasi cosa? Ancora barili! Andiamo sopra! Facciamoci... Oh! Che cacchio! Che crolla di tutto! Facciamoci un giretto! Andiamo! Attenta, amica Lara! Qua che cos'è? Ah! Bello! Si può buttare giù! Sto cercando di capire! Qua arriva l'acqua! Continua a scendere l'acqua! Noi dobbiamo fare in modo di passare con la torcia! Però... Là sotto vedo che continua a cadere l'acqua! Qua continua a cadere... Quando è che non... Che si ferma? Strana! Non la riesco a capire... Forse è qua? No? Aspettate eh! Forse è quando arriva quella botta d'acqua! Sì! Non lo riesco a capire sto passaggio! Come mai? Di qua che c'è? Vediamo qua! Aspettate! Fatemi fare un giretto! Voglio capire una cosa! Allora! Qua non si può far nulla! Qua che cos'è? Questo? Si può incendiare! Vai! Perfetto! Uh! Mamma mia! Non sta messo bene eh! C'era qualche cosa ancora da incendiare? Sì! C'è sta l'altro paletto! Aspettate! Andiamo a incendiare l'altro... L'altro paletto! E così almeno questo ci abbandona! Vai! Perfetto! Ora andiamo a vedere se andiamo a spingere quello sopra se succede qualcosa! Con che vedo che... Adesso ci stavo facendo caso che la maglietta di Lara... Questa che cacchio serve sto coso? Che rimane impalato qua! L'istinto di sopravvivenza è L2! Ci ho capito! Ma non serve a una mazza! Ho capito l'istinto di sopravvivenza ma... Non serve a nulla! Ma qua ci si può saltare? Oh... Ci si può saltare! Ah... Beh... Ora si! Ora si! Che cominciamo... A capirsi la cosa! Andiamo sopra! Perfetto! Andiamo, andiamo, andiamo! Ora io dovrei prima... Dar fuoco a que... Ok! Dar fuoco! E poi farli cadere e così poi li utilizzo dopo! Vai! Perfetto! Andiamo! Vai! Grandi... Ah! Forse fanno tutto da soli? Grandissimi! Eccoci! E siamo fuori! Dobbiamo andarli da qui! Modello sbloccato! Menù principale extra! E anche dell'esperienza abbiamo preso! Fantastico! Esci da qui! Esci! Mamma mia! Vedo la luce! Via! No! Tipo cane! Quest'altra! Quest'altra! No! No! E che cacchio è? C'è la miseria! Tutti gli spini! Ma sta crollando di tutto! Vai! Vai amica! Oh cacchio! Oh cacchio! Sali qua! Ma che è una nave! Salta! Vai! Mamma mia! Che epica! Che epico sto pezzo! Vai! Vai! Sotto! Sotto! Ariecco questo! Mi devi lasciare! Mi devi lasciare! Stanno! Ah! Mannaggia la miseria! Stava a scappare! Ci ha rimesso una zampa! Ci ha rimesso! Porco cacchio! Porco cacchio! Ci ha rimesso una zampa! Ci ha rimesso! Maledetto! Non stavo vedendo i pulsanti! C'avevo la smania di scappare da sto tizio! Levate! 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 Triangolo! No! L'ha premuto! Ma l'ha premuto! Ma forse lo devo tenere premuto? Non devo premere solo triangolo! Devo tipo... Proprio premere... Nel senso... Fino a fondo! Devo riusci a capire bene... Sti passaggi! Poi ho visto che c'è stato pure un cerchio! Prima che appaiono sti pulsanti! Quindi è da capire! Bene! Vai! Levate! Levate! Ah! No! Perché? Come cacchio funziona? Scusa! Lo devo premere proprio nel momento in cui appa... Oh no! Mi ho proprio stritulato la faccia! Proprio morta secca adesso! Iniziamo molto male ragazzi! Iniziamo molto male! Perché sarò morto dalle... 3-4 volte già! La cosa non è molto buona! Buona! Levate! Levate! Oh! Ma l'ha premuto! Ma che cacchio è? Ma non funge? Non funge il mio triangolo? Ma... Per capirla la cosa... Riproviamo! Ok! Lasciami perde! Lasciami perde! Vai! Ok! Va te! Ne va! Fuori! A posto! Esperienza più 25! Usciamo da qui! Quindi lo devo premere più di una volta! Qua c'è stridulato... Qualsiasi cosa! Aeo! Tenta! E cacchio! Siamo persi la torcia un'altra volta! L1-R1! L1-R1! Vai! 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 Te prego esci da qua! No! Mamma mia! Ma che cacchio è? Ma che è? Mamma mia! C'ho l'ansia! Su! Su! No! Riecco un'altra di qua! Vai! 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 Luce! Luce! Oh! Dimmi che siamo usciti! Sì! Vai! Mamma mia! Che catastrofe! L'aereo devastato! Pure noi stiamo a pezzi, porco cane! Musica veramente da lacrima! Tomb Raider! Bell'inizio proprio! Bell'inizio! Ancora l'esperienza che sale! Sa cosa ci servirà! Poi lo vedremo! Spettacolo! C'è anche la cornacchia! Ok ragazzi! Ci fermiamo qui con Lara che la vedo alquanto agitata e terrorizzata! Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gioco! Se l'avete anche giocato! Nel senso ovviamente è uscito, se non ricordo male, a marzo del 2013! E fatemi sapere se volete che continui questa serie! Ci vediamo con tanti nuovi video! Sempre qui, sempre sul mio canale!